Salve, sono nella mia cameretta Scherzi a parte Allora, vi spiego cosa c'è, sono alla Lega Sì, l'ho già battuta Ecco perché non te l'hai fatto venire, non mi discrivo Per il semplice fatto che lo scopo di un canale è intrattenere, ok? La Lega era parecchio noiosa, ok? Quindi l'ho assaltata, ok? E questa per ora è la mia truppa Abbiamo Kiss Me al 68 perché sì Fungo Puovo al 68 perché sì Poi abbiamo Tumore, Bubiz, Laman, Procione E basta, perché? Perché sì Ok, ve lo spiegherò più tardi qui ha perso l'agino lì, ok? Allora, quello che dobbiamo fare adesso è Volare a Lily Cobb City Perché il professor Burge ci ha detto che A Lily Cobb City c'è un passaggio Per andare a Ceneride E quindi agli zombie Quindi entriamo qua e siamo nelle fognature Perché? Perché sì Dobbiamo cercare una via Quel telefono sul muro sta squillando Vuoi rispondere? Sì Buongiorno Ti farò un'afferta che non potrà rifiutare L'accetti? Mmh Sarebbe Acciate e te lo dirò Bene, accetto, cos'è? Tanto tempo va Ho perso un certo strumento Mentre Eh, insomma, c'è rotta la nave, ho perso lo strumento Devi ottenerlo per me E dove si trova? Che cos'è? Eh, direi di messi in un pallone Eh, ok È fatto di roccia Puoi trovare nella, nella nave Dove pensi di trovarlo? Guardi, scusate Eh, dove lo posso trovare? Eh, dove ti posso trovare? Aspetterò Da qualche parte Nelle fognature Click That was weird Oh no Seriamente che cat ci fa una roccia qui? Oh no Voi non capite Sapete chi devo prendere adesso per rompere quella roccia, vero? Ciao Ci rincontriamo Eh, sei qua per il mio aiuto? You know Mi serve spaccaroccia Stai zitto ed entra in squadra Tumore Per il momento vai nel box Ho visto un errore di mapping spaventoso qua Cutlerine 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 Delicott sewers Oh god Fish person Is this what Mary Sue? No, aspetta È un X-Man Cutlerine Io Io Sa che ho una sorta di amore e odio per te Ma scusi Ma ci sta facendo un bagno lei No, perché Ancora Lì c'è qualcosa di alquanto incomprensibile Veeh Oh Eccolo qua Ok Something just happened Ah Oh, perfetto Oh no Voi sapete che io Che io Ho un odio profondo Per queste cose Quindi facciamo una bella cosa Save Marco Oh, che culo Se c'è una borsa curativa qui Mi aspetta qualcosa di stronzo Ma Ma tanto stronzo Oh Dai No abbiamo una donna zombie Killua E Tmule Ok What Uh Nel I mean You're just cursing the guy Which it was for me To come here In me Ok Bye now Corri Wendy Wendy I can see you Wendy Segane Vaffanculo Killua Vaffan Coo No, aspetta Cosa Ah, quindi era un sogno Oh, grazie a Dio Ok Eh No, non può finire così Buongiorno Guida Guarda l'antibu Ok Mamma Oh, che cazzo It's just me Or just your mother Little town Where the champion lives Ok Hi Guida I'd help Darren Does it always My I heart Oh, che cazzo Sono le necropoli Wow Sto giocando A The Binding of Isaac Facciamola quella cosa Save The Battle Zombie Gawler Ma no Aiuto Ok Lottiamo Cosa No No No, 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 no Ti prego Non ammazzarmi in un colpo Oh, cazzo Non è il momento Ah, ma è una merda Ok Uno è andato Chi è prossimo? Gorlax Cazzo e cazzo Con lui Voglio Use rock smash Cazzo Ora ricorreremo alla vecchia tattica del sky uppercut Everything Anche se non gli tolgo niente Dai Sai Succa 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 cutlerine Succa Le sue mani sono cadute Il Battle Zombie Ti tira un calcio Violento in faccia E si Vieni What? We the Oh Per Che Gliss mi ha ipnotizzato Mi ha rinchiuso prima in un sogno Poi mi ha scritto nell'antro di Di Danzo E Blackthor Non si sa come Ma salvato E ora sono Orocea Perché Perché Eh sì E ragazzi Mi direi che per questa parte è tutto Nella prossima Vedremo di sconfiggere Questo Esau Mi sembra tipo Una citazione alla Bibbia Però lasciamo stare Non sarebbe una novità Eh Quindi E andremo avanti con la storia Quindi Ciao belli Sì Condividete Mi piace Altrimenti Chi lo ha Vi stupirà nel sonno Ecco Ciao Ma ti pare Ma se Non contare mica Uno script Con delle caramelle rare Perché la lega è troppo difficile No